L'ufficialità è arrivata ieri sera in pratica in concomitanza con l'orario del calcio d'inizio previsto per le 20.30 di martedì dopo la ratifica da parte della Lega Pro in FGC, ma già dal primo pomeriggio si era capito in maniera ufficiosa che Vicenza Padova non sarebbe iniziata. Di fatto la decisione è stata concertata dal prefetto Berico e dal COC del Comune in virtù del peggioramento delle condizioni meteo. Si ipotizzava un rinvio di appena 24 ore che poi è stato confermato previa consultazione delle previsioni meteo sentite le rispettive società sportive. L'ultima parola in questo caso spetterà oggi alle autorità amministrative di pubblica sicurezza.